Pensate, sono oltre 20 anni e dalla fine degli anni 90 che internet, la rete, è una realtà, è una realtà usata in tutto il mondo tecnologicamente evoluto. Naturalmente l'Italia è uno dei fanalini di coda, è stato scoperto abbastanza recentemente, si è cominciato ad usare abbastanza recentemente e sorprendentemente ci sono anche molte persone di cultura che oggi come oggi quando gli parli di quelle che 20 anni fa erano le nuove tecnologie dicono, oh no per carità il computer no, io leggo un libro, perché non puoi leggere un libro usando anche le nuove tecnologie e usando le utilità che ti dà il computer, la rete eccetera eccetera. Questa è l'Italia, l'Italia la quale di fronte ad un primo ministro come Matteo Renzi, il quale invece giustamente guarda molto al futuro, cerca di modernizzare questo paese, allora per salire sul carro del vincitore dice di sapere tutto e di più sull'argomento secondo la vecchia logica, il vecchio adagio italiano che chissà fa ma chi non sa insegna e quanti insegnanti stanno spuntando a destra e a manca. Grazie a tutti.